Dopo gli exit poll e le prime proiezioni, i risultati delle elezioni in Germania, sono ancora più netti. Angela Merkel vince ma è in forte calo ed è lei stessa ad ammetterlo, speravamo in un risultato migliore ma abbiamo ricevuto un altro grande incarico dal popolo tedesco, e formeremo un governo. Angela, che farà la cancelliera per il quarto mandato consecutivo, non ha precisato i termini della possibile coalizione di governo, ma ciò che è certo è che con questi risultati la grande coalizione con la SPD finisce oggi. È una pesante sconfitta per l'SPD, oggi finisce per noi la grande coalizione. Ha detto Manuela Skvesig, una delle esponenti di spicco dell'SDP. Pochi istanti dopo, nel primo discorso di Martin Schulz dopo la battosta elettorale, conferma il tutto, da oggi andremo all'opposizione. I numeri infatti dicono che il 20% della SPD è il peggior risultato di sempre dei socialdemocratici, mentre il 33% della CDU è il peggior risultato dal 1949 ad oggi. Ora dunque bisognerà vedere quale tipo di coalizione, potrebbe governare la Germania nei prossimi quattro anni, con il sospetto più grande che si posa sulla coalizione giamaica. CDU, Verdi e Liberal Democratici che con il 10% a testa, hanno forti possibilità di formare una compagine, che sostituisce la grosse coalizione in. Una conferma della difficoltà però per la Merkel nei prossimi ste politici, è certificato dalle dichiarazioni di poco fa dei Verdi. Ci saranno colloqui difficili, faremo soltanto quello in cui crediamo, lo ha spiegato la candidata di spicco dei Verdi, Katrin Wehring-Eckart, commentando il risultato del partito, e la prospettiva di accordi per una possibile coalizione giamaica con Unione, KDUXU, e Liberali. Ag. di Niccolò Magnani. Autore dei sottotitoli.